Elena, una vedova pensionata che viveva in una tranquilla cittadina del nord Italia, si era adattata alla solitudine dopo la morte del marito. La sua routine quotidiana venne interrotta quando, navigando in internet, ricevette un messaggio da John, che si presentò come un militare americano in missione all'estero. John era affascinante nelle foto che inviava. Un uomo indivisa con un'espressione sincera e rassicurante. Elena, colpita dalla sua gentilezza e dai racconti avventurosi, iniziò a conversare regolarmente con lui. Nei mesi successivi, l'affetto fra Elena e John crebbe. Si scambiavano messaggi quotidianamente e John raccontava di missioni pericolose e di una vita solitaria. Elena si sentiva sempre più vicina a lui, trovando in John un compagno e un confidente. Lui le parlava di sentimenti profondi e di un futuro insieme, facendole sentire nuovamente amata e desiderata. Un giorno, John confidò a Elena di trovarsi in una situazione difficile. Aveva bisogno di soldi per un'operazione militare urgente e non poteva accedere ai suoi fondi. Con riluttanza e spinta dal desiderio di aiutare la persona che credeva amare, Elena inviò una somma significativa di denaro e John la ringraziò profondamente, promettendo di restituire ogni centesimo non appena possibile. Dopo il primo invio di denaro, le richieste di John divennero più frequenti. Ogni volta aveva una nuova scusa, problemi di salute, difficoltà burocratiche, ostacoli imprevisti. Elena iniziò a nutrire dubbi. La sua famiglia e gli amici le espressero preoccupazione, suggerendole che potesse essere vittima di una truffa. Ma lei, cieca di amore e fiducia, continuava a inviare denaro, aggrappandosi alla speranza di un futuro insieme. La svolta avvenne quando il figlio di Elena, Marco, decise di indagare più a fondo. Con l'aiuto di un amico esperto in informatica, scoprì che le foto inviate da John erano rubate da profili social di un vero militare americano, che non aveva alcuna conoscenza di Elena. Inoltre, le transazioni finanziarie portavano a conti bancari in paesi diversi dagli Stati Uniti. Quando Marco presentò le prove a sua madre Elena, l'impatto fu devastante. Elena dovette accettare la dolorosa realtà. Era stata ingannata. Sentiva un misto di vergogna, rabbia e tristezza. La realizzazione che John non era mai esistito come lei aveva immaginato, la lasciò in uno stato di profonda disillusione. Su insistenza di Marco, Elena denunciò l'accaduto alle autorità. Sebbene fosse improbabile recuperare il denaro perso, voleva prevenire che altre persone cadessero nella stessa trappola. Fu un processo difficile, ma con il sostegno della famiglia e degli amici, Elena iniziò gradualmente a guarire dalle ferite emotive. Con il tempo, Elena trovò la forza di andare avanti. Cominciò a dedicare più tempo ai suoi hobby, a riscoprire le amicizie e a partecipare alle attività della comunità locale. La sua esperienza dolorosa le insegnò il valore della cautela nel mondo virtuale e l'importanza di ascoltare i propri cari. Elena, pur con le cicatrici, ritrovò la gioia di vivere, imparando a trovare felicità nelle piccole cose della vita quotidiana. Grazie per la visualizzazione. Se non è un problema, supportaci iscrivendoti e attivando la campanellina. Sarà di supporto per aiutarci ad aumentare la qualità del canale.